Sorridere, sorridere, sorriso cinematocratico. La bicicletta fa, a un certo punto mi hai ritornato un po' di freddo, guarda, adesso te le scogliacce, action camp qua, niente, allora Mario prendiamo la maglia, che è un po' di freddo, fate cazzate che siete filmati, a posto, mi chiamo Federico Dolci, tutti i tripli guanti, cazzo la volta che fa caldo mi tocca, ma che se vuoi mi metto anche qualcosa, no no no, così, vedi, per imparare bisogna congelarsi una volta, esatto, sì sì, no ma io la guarda, hai cambiato ancora tu, siamo? Sì, vai tu, vai tu la tua strada, dai, no io vi seguo perché vi filmo, buona, vergina la energia, ti va trochargera, dai, no io vi seguo, a conferma il andiamo troppo piano E' se che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Si è il rischio E' se che cosa vuoi? E' si che cosa vuoi? E' se che cosa vuoi? E' se che cosa vuoi? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. bucato. a tutti. 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 in ogni cosa. c'è il lato B. B. a tutti. 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 comunque c'è un 50 e 50 vedo di biciclette tra mountain bike tanta corsa ma c'è anche tanta rafficchino come cacchio a fare? cacchio? c'è una mano Paolo? no no non riesco a capire che problema c'è sta alle prime armi a 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